Vanno un po' strano quelle golpe Guarda che sono tutti i tedeschi, i 10 Oddio Madonna No, adesso mi spieghi come... Nooo, non ci credo Qua si vince di millesimi, peccato Dove sei andato? Non ho tagliato tre guardi Sono arrivato praticamente assieme al primo PB Games Solo abbiamo fatto... Non abbiamo fatto fare un secondo di differenza che eravamo assieme Questo muro Madonna Non riesco a tagliare quel treguardo lì Devi prenderla molto... Molto dritto Easy Madonna Devi prenderla dritto, niente di più Non laggare Non laggare Tu la fai fatti a prenderla dritta, io non riesco Ma no Cioè qui si gira la prima pista per... 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 Sì! No, ma come? È impossibile 30 caffresimo, ma dai 30 caffresimo, ma dai! Ehi! Per... Meno male che possiamo riprovarla a 100 mila volte Talmente corta Non capisco questi come fanno ad andare così veloci Uh, medaglia d'oro Minchia! Ventottesimo, però Ventottesimo 15 secondi e sei Ah, sei vicinissimo a me Ah, ma quindi ho preso anch'io la metodio d'oro, mi sa Nooo, l'ho sbagliata Non ci credo, sono stupido Ma... Ma... Ma mi ha schiantato sul traguardo Ma vaffan... Come? Grazie Schifo Ops 31esimo Sì Veramente qua... Hanno fatto tutti benissimo Com'è possibile? Eh, comunque abbiamo poca differenza col primo stavolta Ci sta a essere... Potentese Dai, per una volta che l'ho andato bene Quindi non mi tocco bene Non mi tocco bene Non mi tocco bene Vai Nooo, mi sono schiantato sul... Nooo, guarda tu mi sono schiantato io Sono in vantaggio Sì 13esimo Sono a... 300 millisecondi dal primo Mio dio Devi fare tipo la curva qua perfetta Fatta? No, non ci credo Sono pure in motta E invece no Sono secondo! Riccardo, sono secondo Oh mio dio, sono secondo Oh mio dio, sono secondo Oh mio dio, sono secondo E non prende abbastanza velocità Vaffanculo Non ci posso credere Guarda di quanto Era tutta una questione di come...